A due settimane dal debutto, siamo senza regista. Non ce la faccio, è troppo lunga. Sono nove versi. Sì, infatti, c'è pure sta palla dei versi. Non è un'idea mia. Ah no? No, è Shakespeare che scrive così. Chi? Ciao, Verona! Avete voi una figlia da marito di nome Caterina, bella e gentile? Ho una figlia di nome Caterina. Peccato sia insopportabile. Manesca, testarda, litigiosa, bisbetica. Resta lì, non mi scappi. Ti scappo come voglio. E tu non mi prendi. Le sfodero il mio stile di conquista. Sarò pirato o poliziotto se lo vuole. Sarò un signore. Non è questo lo spettacolo che ho venduto al teatro, chiaro? Pubblico deve sapere che la bisbetica è teatro, non è il teatro. La bianca noiosissima maestra. Che è questo? Shakespeare fa arrivare Petruzzo al matrimonio vestito come un parfone su un ronzino svelacchiato. Il teatro ha senso se è vivo. Io penso che questa sia la sfida, quella di rendere attuali queste parole. Don't stop me now. I haven't such a good time. I haven't a goal. Don't stop me now. If you wanna have a good time, just give me a call. Don't stop me now. Because I haven't a little time. Don't stop me now. Yes, I haven't a good time. I don't wanna stop at all. Oh my God. Yeah! 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 Grazie.